Oh, ma che so con le luci laggiù? Le luci dalla ribalca, come le ribalche è sempre uguale. A 21 proiezione e a seguire live di Juubox all'Idroscalo e Lettere dalla strada, con Angelo Sigaro Conti della Banda Bassotti. Vi aspettiamo alla spiaggia Happy Surf, lungomare Duca degli Abruzzi, 4266 Ostia. Ingresso gratuito. Per informazioni www.terranulius.it